Seconda edizione di Appennino Foto Festival Luce della Rinascita, al BIA sabato 17 luglio a Belforte del Chienti. Il festival, che coinvolge anche i comuni di Camporotondo di Fiastrone, Cessa Palombo, Caldarola e Serra Petrona, prevede fino al 25 luglio numerosi eventi con grandi interpreti del mondo fotografico, letterario e naturalistico. Il primo ospite di eccezione è Licia Colò, che ha voluto testimoniare l'importanza del festival fotografico e la sua vicinanza alle Marche. Le fotografie possono aprire gli occhi su realtà sconosciute, che poi ci fanno innamorare e non ci lasciano più. I borghi sono talmente belli, ma vanno recuperati, perché le ferite del terremoto rimangono sulla pelle delle persone, per cui non è sufficiente dire che verranno fatte le cose, bisogna farle. Gli ideatori del festival, Fotonica 3, hanno voluto omaggiare Licia Colò con una t-shirt realizzata dalla sua azione. Scopo del festival? Mantenere alto l'interesse verso luoghi che stanno affrontando una doppia rinascita dopo terremoti e pandemia, per manifestare insieme la volontà di ripresa, di rinascita e ripartenza. Il festival è sostenuto dalla Regione Marche, in sinergia con l'Unione Montana dei Monti Azzurri e gode anche del patrocinio gratuito del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sentiamo l'intervento di Giampiero Feliciotti, presidente dell'Unione Montana, dell'assessore all'ambiente Stefano Aguzzi e del sindaco di Belforte Alessio Vita. Siamo molto felici di questa manifestazione che nonostante la pioggia ci ha fatto trasferire qui in questa palestra, ma veramente è un festival che dà lustro al territorio, è stato detto un marketing territoriale eccezionale e l'ospite, la madrina Alicia Colò e la ciliegina sulla torta. Ringraziamo anche l'assessore dell'ambiente della Regione Marche, il dottor Aguzzi. Veramente con il presidente del Parco di Sibillini abbiamo l'opportunità questa sera di mostrare bel forte l'Unione Montana dei Monti Azzurri al mondo intero, visto il collegamento streaming che è stato previsto e soprattutto il concorso nazionale e internazionale con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica che ha visto ben 56 paesi del mondo spedire con i fotografi più famosi in ogni stato oltre 800 fotografi selezionati. Questa sera ci sarà la premiazione e veramente tutte le strutture del territorio piene, un grande evento, siamo soddisfatti. Un bellissimo momento questo di oggi per la nostra Regione perché attraverso ospiti importanti provenienti da molti paesi d'Europa e del mondo e da altre regioni d'Italia e la partecipazione anche di Alicia Colò personaggio conosciutissimo nel mondo televisivo ma anche nel mondo del sociale, della cultura, dell'ambientalismo quindi un momento che mette in evidenza e in risalto quanto di bello, di buono e diciamo così anche di apertura verso il futuro noi riusciamo ad offrire come Regione Marche. Appennino Photo Festival oggi giornata di inaugurazione qui a Belforte del Chienti, un evento unico grazie anche alla nostra madrina madrina d'eccezione Alicia Colò, veramente bello vedere così tante persone dopo i brutti periodi che abbiamo trascorso nell'ultimo anno oggi tutte queste persone alla giornata inaugurale veramente hanno dato grande soddisfazione a me ma a tutte le istituzioni oggi presenti. Appennino Photo Festival quella di stasera è la prima serata, appunto serata inaugurale e di premiazione del premio internazionale a Sferico con l'Associazione Fotografi Nazionali Italiani ma saranno tante date anche nei comuni di Limitrofi, Caldarola, Serra Petrona, Camporotondo e Cessa Palombo per un festival veramente ricco di eventi, ricco di valorizzazione del territorio e di promozione.